ciao ragazzi oggi facciamo un piccolo video di alimentazione in particolare parleremo della carne è meglio mangiarla cotta o cruda quali sono i vantaggi gli svantaggi adesso ve lo dico subito io non amo perdere tempo la carne va mangiata cruda eccola questa è una bella bistecchina cruda andrebbe mangiata cruda ragazzi la verità è che purtroppo per esperienza personale devo dirvi che una scottatina gli va data gli va data in superficie perché ragazzi io l'ho visto anche anche oggi quando l'ho presa lì il macellaio non lo so ci ha pulito la bilancia con questo ci ha pulito adesso voi immaginate su questa bilancia ci sarà la sozzeria dell'intera giornata non so nemmeno se la lavano ma poi la storia che può avere questo pezzo di carne da quando viene macellato fino a quando arriva nelle nelle macellerie chissà che e poi probabilmente usano anche qualche sostanza per renderla più rossa non lo so quindi suggeri io suggerisco di dare una bella bruciata a tutti e due i lati io penso 10 secondi per parte voi scaldate la piastra a massima temperatura il mio diciamo il mio la mia regola è appena la carne si può staccare dalla piastra noi la giriamo appena si può staccare di nuovo la togliamo dalla piastra e la mangiamo così com'è quindi andrebbe mangiata cruda ma non la mangiamo cruda per questo motivo perché per esperienza personale se io prendo questa quantità qui che saranno 260 270 grammi e la mangio cruda poi la notte ho mal di pancia mentre se invece gli do giusto una scottata ragazzi giusto una scottata quindi la sostanza non è che cambia tanto io il mal di pancia non ce l'ho quindi per tutti quelli che si stanno chiedendo sarà giusto ad avere questo approccio della carne cruda ragazzi la risposta è sì ma va scottata va scottata i lati perché perché carne cruda invece che cotta primo perché andiamo ad estrarre più valore dai nostri soldi perché ragionate perché io dovrei cuocerla questa e andare di 260 grammi alla fine vado a mangiare 200 180 tutta l'acqua la perdo tutto il sangue lo perdo tutte le vitamine a b 12 e diciamo le vitamine idrosolubili le andiamo a perdere se secca tutto ed è pure più cattiva quindi ragazzi questo è il vantaggio della carne cruda adesso vi mostrerò giusto rapidamente la spesa che ho fatto oggi fatto allora qua abbiamo il fegato abbiamo un bel fegato e qui in germania il fegato ce l'hanno soltanto il lunedì non lo so forse solo dove vado io ma ce l'hanno solo il lunedì fegato di vitello qua calds lebar e lo andrò a mangiare però domani anche questo gli do una scottatina e via anche questo poi ho preso per la colazione naturalmente faccio una bella colazione ricca di grassi ecco qua ho preso dieci uova ne mangio due a colazione queste qui io normalmente le bevo crude però a colazione mi piace cuocerle perché sono belle calde e mi danno un senso di comfort e adesso e quindi cosa faccio a colazione ho comprato questo questo ragazzo in italia io non lo so io credo questa sia cotenna questa la faccio a fettine la squaglio la mattina prima di buttarci dentro le uova e poi ho visto questo taglio qui non so nemmeno cosa sia non lo so nemmeno ma aiuterò anche con questa colazione un paio di striscette non è pancetta non è beco non lo so e farò un po di questo un po di questo qui e due uova con un pochino di parmigiano domattina già lo sto sognando quel momento e perché alla fine quando noi ci alziamo ci ruote il culo e magari mangiare qualcosa di buono a noi ci cambia la giornata quindi ragazzi che devo dirvi grazie per avermi seguito fatemi sapere che ne pensate della carne cotta o cruda voi come la vedete insomma e vi saluto ciao